È vigilia di campionato per la Sidigas Avellino che tra parquet, infermeria e rumors di mercato si avvicina ad una sfida fondamentale in programma domani alla Pala del Mauro contro l'Enel Brindisi. In attesa di capire se Torian Green sarà o meno in campo contro i Pugliesi, la dirigenza è al lavoro per inserire un nuovo playmaker con la Sidigas che ha messo nel mirino Zach Wright, USA di passaporto bosniaco che ha iniziato la stagione con l'Olimpia Lubiana. C'è già un'intesa di massima tra i bianco-verdi e l'ex Panatinaikos che per ruolo e passaporto sostituirebbe proprio Green. In caso di accelerazione Avellino dovrà versare nelle casse del team sloveno un buyout per liberare Wright e farlo giungere subito in Irpinia nel post Brindisi. Ma ora l'attenzione dei lupi non può che essere dedicata esclusivamente al campo, con gli ultimi dettagli da sviluppare per il match contro l'Enel, importantissimo per abbandonare subito l'ultimo posto in graduatoria, in condivisione con altre quattro squadre e con classifica cortissima ma pur sempre un'ultima posizione. Anche i prossimi avversari della Sidigas stanno facendo i conti con diversi infortuni. A David Cournoux e Scottie Reynolds, tenuti precauzionalmente a riposo nella sfida vinta in Eurocup contro la Grissin Bon Reggio Emilia e che dovrebbero esserci al Del Mauro, si aggiunge l'infiammazione al tendine del quadricipite destro per Durand Scott che sta svolgendo terapia ed è in dubbio per la gara di domani. Al di là della condizione fisica, sia per Avellino che per Brindisi conterà tantissimo l'impatto con i lupi chiamati a riscatto.